Big match tra Spagna e Inghilterra, 0-0 il punteggio a metà del primo tempo Quarta giornata di Mondiale Sudafrica 2010 Spagna che ha acquistato Ciro Yamun da due giornate a questa parte Rotoloni sulla fascia destra, grande tiro, si ribatte sulla schiena del giocatore difensore della Spagna ancora arcopinto verso il capitano Emanuele Esposito cerca la corrente, Felipe tira col destro, palla alta, non impezzerisce Simone Lombardi che si lamenta ovviamente perché un tiro concesso così facilmente non è permesso ai propri compagni Falco Lombardi verso il difensore della Spagna di Anzioni avanti, Ciro Yamun in disturbo del portiere senza fare fallo Montanari, però Falco tira la palla fuori Corino Conte calcio addosso a Emanuele Esposito e quindi calcio d'angolo per la formazione iberica Yamun sotto porta una palla insidiosissima Fabio Montanari fa ripartire Rotoloni ancora Rotoloni qui sulla fascia grandissima chiusura del difensore con lui batte veloce a cercare Felipe ancora sul destro ma smista difesa verso un aerosposito Ciro Yamun sotto porta il Lobb che va pochissimo alto sulla traversa dopo che aveva battuto difensore e portiere o vedere i palmieri il passato non apprezzo cioè prende sempre Simone Lombardi adesso Ciro Yamun che smista di petto verso Stefano Falco che non riesce a chiudere il triangolo di testa ancora Felipe rientra sul destro lui che è un destro naturale infatti si trova un po' male sulla fascia sinistra ma è costretto visto che non ci sono mancini in squadra ancora col destro pure lui arco pinto ma spazza la difesa della Spagna Moreno Cotter il cerchio di centrocampo passa palla a Yamuno che viene intercettata da Manuero Esposito che carica il tiro ma perde la palla se la dimentica cosiddetto della pez strada commette fallo con le mani grandissimo intervento del giocatore della Spagna Sì a fianco Pasquale mi serve quel pallone è sgonfio eh le ho gonfiate tutti e due lascia lascia Manuero Esposito verso Arcopinto che cerca Moscariello è il bomber sottoporta controllo di destro tiro di sinistro grandissima intuizione del difensore numero 6 della Spagna se mi leggi con noi dico chi è grande gol di Felipe che con una leggera deviazione beffa incolpevole Simone Lombardi Mandara grande prestazione Mandara dicevamo Mandara quindi si trova uno batte dopo il appena arrivato vantaggio dell'Inghilterra capolista del girone Moreno Conte ancora cavarbiamente lotta centrocampo sono queste ultime azioni di Arcopinto che è smesso verso Manuero Esposito ancora su Rotoloni ancora Rotoloni con il destro si allunga leggermente il pallone ma lo conquista di nuovo e tira da lontano grandissimo intervento di Simone Lombardi che si rifugia in calcio d'angolo ancora Rotoloni dal calcio d'angolo grande intervento qui difensivo di Cironi Amuno che copre fino alla sua retroguardia riparte subisce fallo con le mani e quindi batte veloce verso Moreno Conte nel cerchio centrocampo carica il tiro all'esterno ancora Amuno sotto porta e quindi calcio d'angolo per la Spagna intervento sicuramente di braccio di Manuero Esposito ma a parte comunque monumento congruo del campo del corpo sicuramente non sarebbe stato fallo perché era la cosiddetta difesa del volto del corpo e ci diamo qui il collegamento